no 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 ma 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 fanculo sinceramente beee bella regà qui Alfigame e benvenuti su Rocket League e oggi su Rocket League siamo nel deserto perché hanno fatto un po' di aggiornamenti e uno di questi aggiornamenti uno proprio particolare e che hanno inserito la modalità mutatori, mutatori si chiama così in italiano semplicemente perché chi ha tradotto il gioco non sapeva come tradurlo in realtà i mutatori e altri non sono che delle varianti di gioco, cioè nel senso che noi possiamo andare a modificare delle regole di gioco andando in esibizione, impostazioni mutatori possiamo scegliere vari preset oppure personalizzare noi il gioco, la durata dell'incorso, il punteggio massimo, velocità di gioco, velocità massima palla e altre cose che potete leggere in questo momento ed escono cose davvero particolari, io ho solamente provato questa cosa in modalità esibizione con i bot ed è diciamo successo una sottospecie di caos, bene quello che faremo noi oggi è giocare queste partite online con diversi mutatori cioè grazie alla modalità mutator mashup, vedo che molta gente ci gioca, pochi, vediamo di trovare qualche partita vediamo cosa esce, non lo so, questa è la mia prima partita che faccio online con i mutatori e all'inizio i mutatori pensavo cos'è una modalità infetto come in modo warfare 3, no, mutatori semplicemente cambio di regole che è ricarica del turbo molto lenta, questo fa parte del mutatore, quindi una cosa già che possiamo notare e adesso vediamo palla quadrata ah ok, palla quadrata e turbo che si ricarica lentamente ma in sostanza è una partita diciamo normale ah ok però, si, aspetta non ho capito, si ricarica in automatico si, si ricarica in automatico il turbo lentamente ma si ricarica e questa è buona con la palla quadrata la gravità della palla sembra essere normale, vaffanculo ho fatto 8 gol, bene eh, volevo salvare la palla invece no, l'ho salvata a malo modo però queste cose qua nella squadra avversaria non mi riescono mai c'è già gente che rage ok, proviamo ad attaccare e, oh, piano, piano, piano no, cosa l'ha stoppata all'ultimo, eh se non l'ha stoppata magari ok, mi stai dicendo che a parte il mio autogol prima poi non sta succedendo più nulla e no, perché si va all'attacco si va all'attacco ok, che schifo d'attacco ok, che bello attenzione, qualcuno in porta, nessuno in porta a nessuno in porta della porta battuta di merda mi stavano per fare autogol, tipo, mi stavano buttando dentro mmm, non riusciamo ad attaccare, questo è il bello no, 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 che culo che culo, che culo, che culo oh, un bel rinvio no, cosa uff, attenzione alla paratina attacco al volo no, troppo alto oh, 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 no, sì ok, è arrivato quell'altro da dietro eeeh, grande sciccata non appari quando pensavano che stanno vincendo quando pensavano che la partita fosse, ormai, che andasse così invece no no, si va ai supermentari, davvero dobbiamo difendere healthy game fategli toccare terra, fategli toccare terra fategli toccare fottutamente porca puttana terra ha toccato terra stava per entrare, però, eh, attenzione no cazzo, dovevo colpirla no, sti casi, dai, com'è la perché le parlate quadrate no no, che balla è bello che con R1 si parla, quindi e quindi, avendo il grilletto, notare attaccato e allora, e allora è ovvio che succederanno queste cose uh, c'è gente che gioca dalla Playstation 4 e io su PC allora, palla grande gravità bassa e e ricarica rapida ce l'ho scritto del turbo e si, è rapida no, sì, no, 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 no sì, no no, no, no no perché la gravità perché la gravità no, 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 no ehi voleva fare il pezzo grande ma healthy game colpo aereo colpo aereo beh ci mancherebbe alto però no E al fine va sulla luna Quanto pare qua No non ce l'è Ok il tubo rapido attenzione Non si vedeva nulla Ok abbiamo segnato No? Sì l'ho colpito Ok Uh 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 No no perché No che palle Letteralmente Uh uh no No eeeh Savorita Uh uh no Portare via Portare via No no Colpa aereo di merda Parata epica Non ho fatto un cazzo ma parata epica Non ho fatto un cazzo E mi trovavo lì Scendi 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 Macchina di merda scendi Ma vuoti guarda questo lo uccido va Eh mi stava sul cazzo Oh 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 zio No 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 Nooo no 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 Ma va Ma va Va in culo Sinceramente Ci vado a volo E allo fighe mici va a volo Dai al centro al centro al centro Qualcuno al centro Qualcuno al centro Qualcuna al centro Vai tu Vai tu No 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 Amico ti sei mangiato la cosa più bella del mondo Anche perché mi valeva come assist Quindi Uh scusa zio Scusa zio Malfi game Malfi game Mi ho fottuto il gol teoricamente Ma teoricamente Teoricamente Uh scusa Aspetta io scrivo Sorry for manata di Boom Uh Uh Se la toccava al volo però Tocca terra Tocca terra Ah mo con la palla che non cade mai Ok E ha toccato terra Grande azione Grande divertimento Portal propulsore Uh bello Perché c'è stata l'azione Perché c'è stato il divertimento Perché c'è stato il rocket league Noi ci vediamo con altre partite Sempre i mutatori Perché i mutatori sono Mi piacciono sinceramente la cosa Anche se si trovano poche partite Potete giocare con me a rocket league Potete parlare con me su Team speak Link in descrizione Del mio team speak Possiamo giocare insieme A questi e altri giochi E niente Lasciate un like se vi è piaciuto il video Seguitemi sulla pagina Facebook E da Alfigame E tutto Io vi saluto E ciao a tutti